A Napoli Santa Messa di Ordinazione Diaconale per Amedeo Tocci che compie così un ulteriore passo della sua formazione all'interno della famiglia dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù della provincia dell'Italia Meridionale. Noi Amedeo lo abbiamo incontrato a Roma in occasione del Giubileo dei Ragazzi Giovani Insieme 2016, i giovani proprio delle parrocchie dei padri dioniani della provincia dell'Italia Meridionale. Sentite che cosa ci aveva detto in quella occasione, proprio in questa intervista tratta da una puntata di Ten Generation dedicata proprio al Giubileo dei Ragazzi Giovani Insieme 2016. Come è nato questo tuo percorso, questa tua vocazione? Io ho conosciuto i padri dioniani durante i miei anni di studio universitari, studiavo chimica, lì ho conosciuto i padri dioniani che sono responsabili della cappellania universitaria e durante poi il mio dottorato di ricerca quando le cose si facevano serie ero anche vicino a passi importanti da un punto di vista affettivo perché ero fidanzato quindi già quando si prospettava una vita coniugale si iniziava a parlare perché ormai eravamo fidanzati da diversi anni pensavamo quando lì ho pensato seriamente al matrimonio mi sono fermato a riflettere con più calma e quindi da lì poi ho scoperto che la mia vocazione, la mia pienezza, questa abbondanza si trova in un altro cammino che era quello del sacerdozio. Non hai mai avuto paura rispetto a questa tua vocazione che alla fine hai scoperto? Che la paura a volte può bloccare però rimane in me un po' la percezione della serietà dei passi che sto compiendo. Già con la professione perpetua avevo avvertito questa pesantezza della responsabilità, pesantezza non come gravosa però come onere, come missione che è affidata, che ci supera però non bisogna farsi schiacciare che poi è il peso che si avverte nel matrimonio. Chi vuole sostenerlo con le proprie forze rimane schiacciato, chi si affida all'aiuto di Dio che passa attraverso i confratelli, passa attraverso gli amici, i familiari, può sostenere questo peso. C'è un modo con cui i padri di Ognani ti hanno in qualche maniera aiutato a scoprire questa tua vocazione, questo tuo percorso che appunto era diverso rispetto a quello che tu ti immaginavi? Se mi sono innamorato di Gesù Cristo, il motivo per cui poi ho scelto la vita religiosa è aver visto confratelli contenti celebrare la messa insieme. Lì ho visto la gioia e non semplicemente un rito, un servizio che si offriva ma la gioia nel fare questo servizio come confratelli, come piccolissima comunità. Nelle comunità religiose si vivono tanti momenti anche di scontro, però anche tanti momenti di gioia che poi è la gioia del Signore perché la gioia è un frutto dello Spirito Santo quindi lì si vede nonostante le difficoltà, nonostante i limiti umani che le nostre comunità sono abitate dallo Spirito Santo e che la vita religiosa è un regalo immenso che il Signore ci ha fatto.